Mi chiamo Romualdo Stoniolo, sono italiano, ma abito in Inghilterra. Ho conosciuto un mio amico in Inghilterra che è venuto qui per farsi delle protesi, c'era molti problemi, e come le avevo pure io, mi sono fatto l'indirizzo e mi sono messo in contatto. Penso che ho coperto tutto. Qui ho detto che ti danno l'appartamento, ti dicono dove andare, cosa fare, fare le gite di compagnia se vuoi, è tutto organizzato molto molto bene. Se viene qua, chi viene qua sarà molto impresso da quello che vedranno. Non penso che ci sia un posto, almeno dove sono stato io, bello come questo. Ve lo raccomando a tutti. Non ho mai visto una cosa così bella, così pulita, il personale così giovane, così preparato, e qui non manca niente. Avevo molti problemi, non potevo mangiare, perché mi mancavano molti denti, perciò quando sono venuto qui mi hanno fatto un'altra panoramica, poi mi hanno detto cosa ci vuole fare, me l'hanno fatto, ho fatto della chirurgia, è andata benissimo, sono stato qui una settimana, avevo un appartamento che era favoloso, ho girato tutta la città, è molto bella, la gente è molto amichevole, il personale alla clinica è favoloso. Le ragazze sono tutte bellissime, non sai da che parte guardare, almeno ti toglie la mente dal dolore. Sono stati molto bravi, i denti sono bellissimi, perciò adesso potrò mangiare e non mi vergognarò di ridere. Con i denti è tutta una cosa differente, prima tante cose non le potevo mangiare, come le bistecche, la carne, era sempre un po' difficile, mi ha cambiato la vita molto. Il dottore Michele, che mi ha fatto tutti i denti, è bravissimo, simpatico e molto amichevole. Mi è piaciuto molto e se qualcuno mi chiede di venire qua, al 100% è il miglior posto. Sono stato molto contento e ci saranno problemi nel futuro, questo è il posto dove vorrò venire. Grazie.